Siamo tutti abusivi e non ce ne andiamo più, tutti abusivi! E questo è il momento dell'approfondimento, vedete, Antone a me c'è il meglio, il non plus ultra dell'intelligenza, il non prosciutto della cultura in merito all'intelligenza artificiale e non artificiale. Un attimo soltanto, pronto? Salve, sono Abusiv, l'assistente vocale della redazione. Primo step, configurare il riconoscimento facciale del conduttore. Inquadratura di Gigi il conduttore. Si prega di pulire la camera, l'immagine è sfocata. Sempre la stessa immagine, o la camera è danneggiata, o più probabilmente è il conduttore che fa schifo. Nome del conduttore, risponda, prego. Gigi! Faccio una ricerca in rete. Mi sono rumore da stile. Hai gli occhiali, ti fai il riporto e tieni a panse. Diagnosi finale, stimati dai tre giorni alle quattro ore di vita residui. Si consiglia di finire presto la puntata e sostituire il conduttore. Salve! Grazie! Grazie! No, non ti toccare, sarebbe un toccare il vuoto. Ma troppo bella questa app, fa muri. Questa app è bellissima, fa muri, dico. Grazie a fa! Vabbè, invece la nostra... Vieni qua. Allora, come se pensi della nostra vita? No, a me non mi interessa proprio la lavatrice, asciugatrice, non mi interessa. Questo è perché sono dei modi, come l'ho detto l'altra volta. Tu li fai a mano? Sì, faccio tutto cosa a mano. Tutto a mano, sì, sì. Veramente? Cucino tutto, non mi interessa. State fai. Cucina a mano? Eh, eh. Quindi l'unica cosa che ci sto male è tutta questa tecnologia. Perché prima... Mi piace all'uomo che mi ha da sbattere un pazzo muro. Ah. E' bella, così. Bene. E' un po' di vino. Bravo. Ma non, vedi da chi sarei morti. Sì, grazie. E' bella questa cosa, i bit bulli. Sì. I bit di metri. T'ha da scassare il sangue. Bello, sì. Ehi, ma tu potresti messi un conduttore. Ma se mi hai visto la gilletta che tu potresti. Chi sono queste donne talmente di basso livello? Eccoli qua, dicevi? Volevi dire qualcosa? No, che la signora ha ragione. Infatti, l'altro 50 non me l'avete fatto dire prima. Eh, per caso, che è in taticoso. Da, la, la. Che nel campo amoroso, nel campo amoroso, il cellulare si deve spegnere. Eh. Eh, perché così è. Il campo amoroso si deve spegnere il cellulare, perché non c'è campo. Non c'è campo. Non c'è campo. Non c'è campo. Cioè, siamo a capo un po' di telefono, basta. A capo un po' di telefono, mamma mia. Va bene, grazie, grazie. Momenti veramente imbarazzanti. Non avevi paura, non avevi paura. Vabbè, vuoi dire qualcosa? Sì, io ho sentito quello che ha detto Aldo Fabrizi lì. Ma Aldo Fabrizi? No, no, no. No, Aldo Fabrizi. No, no. No, scusi, no. E sono... No, 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 no. E sono parzialmente d'accordo, un 50 e un 50, diciamo. No, non ho capito? Un 50 e un 50. Eh? Sono d'accordo, un 50 sì e un 50 no. Sì? Mi spiego meglio. Eh, forse è un caso. Il problema sull'intelligenza artificiale è il problema che non può essere disgiunto... Ma lo vedete più frizzantino da qualsiasi mesà? Eh, eh, donna! Perché sono c'è la cucetta, tu sai? È la goccia! È la goccia, è la goccia, è la goccia. Tanta tetra, non c'è il microfono, lo avete sentito? Allora, il problema dell'intelligenza artificiale non può essere disgiunto dalla difficoltà di trovare parcheggio. Che c'entra questa cosa? Però Ciro, ma dove parla questo ragazzo? È disgiunto italiano. Vengo e mi spiego. Non fare il polpo, vengo e mi spiego la maravilla. No, voglio dire, il problema non è tanto che le macchine prendono il posto degli uomini, ma è che gli uomini prendono il posto macchina e non si trova parcheggio. Questa è una cosa... Grazie. Grazie. Salutate la mamma, salutate. Maria, volevi dire qualcosa? Prego, da questa parte, ecco. Allora, io sono a favore dell'intelligenza artificiale e della tecnologia e non possiamo negare che fa parte delle nostre vite, delle vite di tutti, pure di quelli che non sono d'accordo, perché il forno a casa ce l'hai, il telefonino lo usi, eccetera, eccetera. Quindi siamo tutti a favore. Bravo! Però... Goditi l'applauso. Passate velocemente a Raffaele, che è un attore che ha una ditta edile e che quindi è un murattore. Un murattore, sì, sì, sì. Buonasera, complimenti per... La trasmissione, la radio alcolato sound, a chiamare. Che cosa pensi? Tu sei una persona che non ha... Cioè, una persona che è venuta a camacchino con il gigino, quindi capiamo... Sì, sì, lo porto io, sennò non può venire. Che cosa pensi? No, io sono contro, contro perché limita i nostri cervelli. Il mio, quello di Gigi, lo limita, noi potremmo fare di più. Però con questa tecnologia ci adagiamo, ci adagiamo e non lo mettiamo in moto. Giusto, Gigi? Avrei con un problema dell'intelligenza artificiale. Ah, sì, questo sì. Ma, ma, scusa, ma, 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 cioè, dico io... Parla, Gigi, parla, parla. Ma non è meglio che questa intelligenza artificiale non la... Non la... Bene, bravo, Gigi, bravo. Bravo. Mi ha tolito, mi ha tolito. Buongiorno. Ragazzi, Giro, un'offerta, un'offerta di 20.000 euro per la Dieci Lab Band. 20.000 euro. 20.000 euro. Ci siamo, ci siamo. Ragazzi, sempre per i nostri... Argomento dell'intelligenza artificiale, Amma toccata bassa, Noi ci amma fatta male. Na, 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 na. Dobbiamo cambiare pagina, dobbiamo cambiare pagina, cambiare libro, perché andiamo verso di nuovo, verso la musica. Eh, Gigi, qual è il momento adesso? Andiamo a presentare un ospite. Ecco, c'è arrivato il momento musicale offerto da Ludo. Questa è un'altra rubrica di Dieci Lab. La rubrica Dieci Lab, i nostri talenti, i nostri numeri dieci. Accogliamo un applauso all'artista di questa sera. Prego, da questa parte. Buonasera. Buonasera. Vincenzo Criscito, vai tu. Vincenzo Criscito. Criscito. Vincenzo Criscito. Bravo, bravo. Seduti, tutti, grazie, grazie davvero. Se la regia mi segue, io posso accompagnare, diciamo, queste note, queste note meravigliose. Togliti da mezzo. Grazie. Ecco, qua, vicino a, metti vicino a Criscito, e il periodo, tra l'altro, di Pasqua, lo abbiamo sentito spesso nei nostri racconti, nei nostri, no? Allora, Criscito che è lavorato al, con il lievito madre, alla... È nato un personaggio vostro, quindi, che cosa... È forte? Sì, è forte assai. Eh, vai bene. Che cosa ci presenti? Ma una bellissima cover di un tuo carissimo amico, tra l'altro, Salda Vinci. Bene. Bene, bene, bene. Salda Vinci, sì, ne ho sentito parlare. E quindi, ehm, Zogna e Pepe. No, Criscito, scusami, non... Allora, Tarallo, che cosa ci... Qual è la cover? La cover si chiama Namuratè. Namuratè. Cioè, mangiamo i vasca, la pummarola, che è secca, che è col Criscito, a pizzca la pummarola. Bene, signore e signori, un'altra cialtronata voluta da questi buffoni. No! Ma poi guarda quanto è bella. Ma poi è brava. È la prima volta che ci guarda uno figo, dai. Bravo! Bravo! Scusate, ma con tutte queste belle ragazze potete portare un bel paio? Però è prossimo a matrimonio, diciamolo, diciamolo per le donne interessate. Allora, devo anche curare i rapporti. Allora, innanzitutto, tu tieni al caffè Cimmino, che è quello che si occupa anche dei tavoli fuori, hai fatto pure carriera. È chiaro? Allora, un attimo solo. Pastiera, mi dicevi la canzone? La nuova si chiama Innamorate. Signore, Pastiera, e no Castiera, Ricotta Salata, Innamorate, via! Quando sto sulle ciove, sto chiusura, E allora, tornarete quel pensiero. Ma l'unico ricordo che compara Innamorate, innamorate, E qui legava più piacere il cuore? E se tu, solo tu, sempre tu, tengo voglia di dicere, quanta gente sta attorno a me, ma non ci stai tu. Innamorate, innamorate, quindici anni e te, che la vita giusti, pur che aveva sempre un maroc, Per paura e favore, che non aveva lontano a te, e con me raggiunto, cheания di nome da te, imparic wing a prima volta, soffrò ancora lontano a te, e la terra innamorate, e fri, noumazzo pazzii te. Grazie Il suo genero Carmine Del teatro Agusteo Carmine Scusa Lui è il suo genero Il suo socio Carmine Cioè Il suo genero E lui è il socio No il socio Carmine Del teatro Agusteo Che sta organizzando Tutto il calendario Quartolone È un grande È grandissimo Carmine Il suo socio Carmine Salutiamo anche Tonia Ciao Tonia Ma io quando Allora Io spesso Sto alla Agusteo Ma io voglio Cucchissimo Che è bravo Un applauso Salutiamo anche Tonia La sua futura moglie Ciao Tonia Ciao Tonia A figli e Carmine A figli e Carmine A figli e Carmine Ciao Tonio Carmine Chi ne ha fatto l'ho pesciato Si vuoi fatica ancora Tu stai massente a me Ma ne saluto ogni ora L'artista più bravo Che abbiamo tenuto in trasmissione Signori Il nostro amico Criscito Grazie a tutti Grazie Criscito Grazie Criscito Che è autore anche della canzone E mamma di basta basta E basta basta E basta Grazie 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 davvero Ci vediamo E basta Grazie a voi Grazie a voi Grazie Grazie Entrate i nostri assistenti di studio Vai Da questa parte Ma l'unica persona dello studio Che Buonasera 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 Quanto è carina quella ragazza È la figlia di Gigi Tutto il padre Tutto il padre Salutiamo Il fundanera Allora Ma perché Tutto il coso Ricci tu Gigi Non mi confido più con te Non mi confido più Non mi confido più No Gigi Lei è così carina Non poteva essere mia figlia Ma come Però pure tu Gigi San di gelo Sì coscienziosa Ma i nostri due Che si metteranno a favore I nostri due Diciamo così Paralest Ecco qua il nostro grande Professore dell'Ira Dell'università E quello dell'università Della cattedra Di mondo convenienza In due minuti Cercheranno di convincere Non solo loro Ma anche gli altri Tre o quattro Che vogliono prendere la parola Per in due minuti Decidere Se eravamo a favore O contro Pronti Partiamo Parte Gigi Hai 30 secondi Per definire Chi viene dopo Gigi Poi c'è sta Raffaele Pronti Un pochino di musica 3 2 1 Vai Allora Eh no Allora Io C'è stato qualche Intelligenza Attivale Che è ignorante Perché Posso Mettere a pensare Che I Vag Puoi Sbagliare Invece Mi risolta Per O vuoi Dicare E come cammini Vagliare 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 Vai la parola Vai Vagliare E dicevi tu Microfono Vai 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 E' facile schiacciare i play Oggi E si fa tutto Invece bisogna guzzare L'intelligenza E bisogna mettere la frutta E fare tutto E fare tutto E fare tutto Io sono contra Sono scema E mi piace essere come sono Così campo meglio Brava 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 Via E questo caro Ludo Brusco Con l'ultima Chiosa Di quella signora Che ha detto Io sono scema Che mi piace fare Che non ha capito Questa è quella Contro La tecnologia Ma A favore Della tecnologia Il nostro Carissimo Professore Dell'Ira In Trinestria Che guiderà Il suo gruppo Di Voglio dire Di followers Chi è a seguire Lui Poi c'è la nostra Milfettona E poi c'è il nostro Raffaele Che Se non arriva La I credi Che facciamo Quattamati Siamo pronti Raffaele Ti devi presentare Pronti Siamo pronti 3 2 1 Via Io sono a favore Dell'intelligenza artificiale Perché L'intelligenza artificiale Significa Dare un senso Anche alla sanità Un problema sanitario Questi signori Hanno bisogno Di un'evoluzione sanitaria Gli ospedali Sono ancora vuoti Per loro Bravo E a proposito Bene E a proposito Di sanitari Gigi chiamiamo la prossima Vieni Vieni A favore Per cosa Vai Io sono a favore Che c'è Ci ha migliorato la vita Ci ha cambiato Le abitudini quotidiane Ce l'ha migliorata La vita Quindi Sì A favore Bello Bello Leva da l'occhio Leva da l'occhio Ascettate Ascettate Oh Basta Purtroppo Il tempo è scaduto C'ha la miseria Il tempo Scaduto È proprio C'ha la miseria Che lo passavo Che arrivava 5 secondi prima La riceva Più veloce Più veloce Allora Peccato Mi è dispiaciuto Ma vogliamo rifare No Gigi No Ti voglio bene Grazie Raffaele Perché avresti detto qualcosa Che uno diceva Allora signori Siamo pro Siamo contro Quando si parla di analogico Quando si parla di analogico Sara volevi dire qualcosa? Analogico Bene Andiamo avanti Andiamo avanti Quindi siamo La via di me Perché la vita è avanti La via di me Ci abbiamo adattato Bravo 50 e 50 Raffaele vuoi venire qua? Vuoi venire a dire questa cosa? Perché mi è dispiaciuto Vieni un attimo Vieni Raffaele Perché mi è dispiaciuto Ecco Mi è dispiaciuto Perché Ecco qua Ecco qua Perché anche lui Ha diritto di dire qualcosa Va bene così Allora Raffaele Siamo pro O siamo contro Questa Sono arrivati Sono arrivati I magazine Allora grazie Raffaele Grazie Grazie Signori Direttamente Da Las Vegas I magazine Č� Stim Vienen Stim Ma non so come l'ora Ehi! 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 Un attimo solo... Ma che sei? Ma che sei? No è una mia tromba amica. Allora qualcuno ci accusa di fare un programma squallido, dove non si capisce niente E come dai torta? Come gli dai torta? Questa sera presenteremo l'ultima Ma chi te l'hai chiesta? Aspetta un attimo Sempre con questo giallo, giallo Oh, cambiamo un po' colore Tipo cacchisto È già fatto per cacchisto Che palco Un attimo solo perché c'è una della band che sta fumando palloncini Quanto è contento Se riusciamo ad inquadrare lo sguardo Vedete quanto è bello È incredibile Dalla chiusura, dalla legge Basaglia Non riusciamo a venire fuori Ecco qua No, oh, oh Allora, oh, stai calmo Allora Posso sperare che sia lei la mia tromba amica Stai dando le spalle completamente Allora 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 Questa sarà l'ultima esibizione di Oh Giallo Sì, meno male Questo si chiama Tu hai certamente la più bella È la terza parte Bella di lavorare Dalla prossima settimana Presenteremo Oh Fra Ma che capito Fra La prossima Il prossimo bravo Dei Ma che schifo Sì, voi ci state promettendo un'anteprima Sì Oh Fra Ma che capito Fra Sì, hai capito il titolo Quindi è un'anteprima È un'anteprima Oh Fra Ma che capito Fra Avete capito il titolo? Ma che capito Fra Bene Guardate a quest'altro Che alla sua venerata età Riesce a fare questi palloncini Le palle Le palle Le palle Sì, signore e signori I Ma che schifo Tu eri certamente la più bella La comitiva e piazza vanvitella Ricordi mi chiamavi amore mio Mi esasti scemo la caffetteria Un, due, tre e quattro Quanto mi hai detto che non mi ami più Ha già fatto giallo O giallo Quanto mi hai detto che non mi vuoi più Ha già fatto giallo O giallo Per la fetina non te preoccupa Tanta giossaccia non mi vuoi tornare La mia cartella perché io pensi a me spigna Per la fetina non te preoccupa Tanta giossaccia non mi vuoi tornare La mia cartella perché io pensi a me spigna Bene, va bene No, va bene Ma vada calma Allora Va bene Va bene Allora tornate Buoni, buoni Ehi, buoni Buoni, buoni Buoni Io ho un ospite importante Ci sono per salutare i nostri ospiti Stai calmo Stai calmo Stai calmo Va tutto bene Ma non la mia Signore a questo punto A questo punto vi pregherei di calmarvi Perché mo dovete andare via Dovete Dovete uscire perché io ho un ospite importante Il professore De Agustis di geofisica E di geofisica nucleare Quindi a questo punto io faccio la trasmissione che volevo fare Perché tutta sta pulcarì a me non mi piace Ciro, ma di quale ospite stiamo parlando? Perdona Oh, professore Ma quale professore? Ciro, io ti ho fittato lo studio a Pasquale Galletto Pasquale Galletto chi è? È un neomelodico, amico mio 850 euro 850 euro per studio? Sì, sì, un'ora e mezza Ciro, vada da insomma Che poi non è manco un cliente mio Il senso me l'ha portato a Raffaele Chi Raffaele? Carrello Ma come? Signori Come una dai Signori, io in 25 anni credevo di aver toccato ampiamente il fondo la settimana scorsa Ma ringraziando a Dio, pure stasettimana abbiamo iniziato a scavare Grazie Abusivi Vai, vai Presentiamo la band Gianni Varone Dario Sfinelli Gianni Bottigliero Lene Salbella Ludo Burrusco Margherita Marnelli Enrico Rispoli Quando arriva quell'attimo Dove gli occhi si incontrano Quasi come un miracolo I pensieri si toccano Non ha senso nascondersi Fa più male che viversi La paura di perdersi Di attrovecchi abitudini Io che non ci ho creduto mai Che poteva succedere Ma sti mani da un attimo E ferita cancellano Ogni cato si illudano Che non è mai stata un'ora prima di te Se ha cosa più bella che può capitare A chi di la vita sa vuole aspettare Se è stile non suona Tu non mi scelta Se arriva sempre Ogni momento Se è una cosa più bella Che può capitare Se tu e Cristo vuole Che la tua vita Fa sempre astringuto Tu te voglio stare Eternamente Che deve essere A buzi A buzi la vita senza manca lo sapete sia cosa più bella che poca vita eternamente io devo sempre sia cosa più bella che poca vita eternamente io devo sempre a bu si vinci a raggiungo grazie a tutti